Nessun immigrato maliano è morto negli ospedali del Foggiano durante il mese di agosto. Sarebbe questo l'esito dei primi accertamenti compiuti dai carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, che, coordinati dalla Procura, indagano sulla scomparsa di un cittadino del Mali di 30 anni, che sarebbe morto a Rignano Garganico mentre era impegnato nella raccolta dei pomodori. La storia era stata denunciata dal coordinatore pugliese per l'immigrazione della Flai CGL, Ivan Sagnè, ipotizzando che il corpo del bracciante potesse essere stato nascosto in tutta fretta dai caporali per insabbiare l'intera vicenda. Il sindacalista è stato ascoltato nella giornata di ieri come persona informata dei fatti. Ai militari ha raccontato di non essere in possesso di alcuna informazione diretta e circostanziata sulla presunta morte del migrante, riferendo di una voce circolata nel ghetto, la baraccopoli alle porte di Foggia, dove vivono in condizioni disumane centinaia di braccianti extracomunitari. Sulla vicenda, nei giorni scorsi, il procuratore di Foggia Leonardo Leone De Castris ha aperto un fascicolo per verificare la veridicità della vicenda. Intanto, sul fronte della sicurezza nelle campagne, si sono intensificati negli ultimi giorni i controlli anticaporalato da parte delle forze di polizia. Un fenomeno molto esteso se si pensa che da gennaio ad oggi, nelle sole province di Bari e di Barletta-Andreatrani, sono stati scoperti circa 190 lavoratori irregolari nelle 68 aziende ispezionate. Grazie. 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 Grazie.